buonasera amici benvenuti all'all fashion anche questa sera abbiamo il piacere anzi questa sera abbiamo il grande onore di avere il patron del gruppo infinity infinity group è una linea di moda spettacolo e animazione tutto quello che è moda quello che per i locali è evento infinity la organizza abbiamo qui il patron gabriele che ci onora di concederci questa intervista con una bellissima signora lilian è un'amica è un'amica del gruppo infiniti un'amica mia che ringrazio di essere con noi adesso volevo lasciare un attimo la parola a gabrile che ci illustra che cosa vuol dire essere infiniti questo gruppo nasce innanzitutto 16 anni fa quindi non ha un giorno a 16 anni che siamo in giro per tutti i locali siamo la storia parte della storia di milano quindi 16 anni di gruppo un gruppo formato da 150 collaboratori che comunque si aggregano a questo meraviglioso gruppo e ci spostiamo in tutti i locali ci divertiamo il lunedì siamo all'all fashion quindi ottimo locale dove organizziamo degli spettacoli sia di moda d'arte che di canto quindi una bella realtà che abbiamo portato qui in questo locale lunedì quindi veniteci a trovare perché con noi vi divertite e quindi venite in lista infiniti avete la possibilità di accedere ospiti e poi con noi se volete organizzare un evento contattateci sull'istagabri infiniti il numero 348 66 30 393 per qualsiasi evento che volete organizzare contattatemi che noi se è un evento che comunque diciamo ci dà una garanzia positiva noi lo ve lo organizziamo esatto il gruppo infiniti associato alla sony music se vogliamo ricordarli e live music show organizza e collabora per fare spettacolo noi siamo lo spettacolo nello spettacolo lilian lei ha anche un locale si è un locale un giro pizza ristorante che si trova roveretto si chiama rendezvous venite vi aspettiamo bene gruppo infiniti si salutiamo tutti e tutti coloro che comunque si divertono con noi quindi salutiamo tutta la movita milanese a questo punto ci sono alte ciao